Sale la protesta in via di Novoli a Firenze in vista dell'apertura dei cantieri per la costruzione della linea 2 della tramvia i cui lavori partiranno il 28 di agosto. In questa palazzina al civico 70 i residenti, 14 famiglie, sono preoccupati perché il cantiere di fatto impedirà a tutti quanti di entrare e uscire liberamente di casa. O meglio, questo cancello che da appunto sulla strada verrà chiuso al passaggio delle automobili, mentre il cortile interno verrà espropriato per diventare deposito temporaneo degli attrezzi da lavoro, con conseguenze pesanti soprattutto per le quattro persone con difficoltà motoria che abitano la palazzina, una delle quali ha invalidità al 100%. Mi dicono i cittadini che stanno qui, i condomini, che loro è un anno che gli fanno presente questo problema, però ancora non hanno avuto risposta. Quindi noi ora, siccome il 28 è dopodomani, quindi noi siamo venuti qui appunto a denunciare questo fatto perché si spera che in qualche modo l'amministrazione intervenga o almeno dia una soluzione positiva per quanto riguarda queste persone che stanno dentro il condominio. Ad accendere i riflettori sulla vicenda è stato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che oltre a protestare contro la scelta di far passare la linea 2 del tram da Via di Novoli invece che da Viale Guidoni, ha programmato per l'8 di settembre una fiaccolata che attraverserà tutto il quartiere. Sarà una fiaccolata a Novoli per questo, per i disagi causati dalla tramvia e dalla cattiva amministrazione, ma anche per il degrado, per la prostituzione, per le condizioni in cui questa zona di Firenze è completamente trascurata e lasciata andare, abbandonata dall'amministrazione comunale. Sono molti i problemi, si somma nei problemi di viabilità e della tramvia è una situazione di degrado molto molto forte.